Colgo l'occasione prima di procedere con la premiazione per chiamare sul palco i rappresentanti di due importanti realtà che partecipano al nostro evento per discutere di temi caldi del presente. Abbiamo dato un titolo speciale a questo format che ovviamente speriamo possa esservi di ispirazione. Growth Mindset, sfide e opportunità di crescita nel mercato del lavoro. Si tratta delle stesse tematiche, degli stessi argomenti che affrontiamo ogni giorno su un'altra nostra piattaforma di punto che è Agora Lavoro. Vedete uno spaccato alle mie spalle, vi invito anzi a curiosarlo direttamente, a informarvi direttamente dai vostri cellulari. Qui vedete un piccolo estratto, noi ogni giorno su Agora Lavoro affrontiamo i temi più attuali del mondo HR. Quindi chiamo sul palco, do il benvenuto all'avvocato Gianluca Tognozzi, socio fondatore e managing partner dello studio legale Tognozzi e Associati. E con lui anche Manuel Boccolini, CEO di Marini Prefabbricati. Buonasera, invitiamo a prendere posto qui. Buonasera, benvenuti. Grazie per essere qui. Grazie per essere qui. E allora, benvenuti ancora da parte mia, da parte nostra. Per chi insomma non sapesse, per chi fosse qui per la prima volta, a noi piace proprio dedicare prima della premiazione un momento di riflessione, di condivisione, sempre per rimarcare la volontà di essere una community. E soprattutto questa sera, come già anticipava la collega Asia Angarone, abbiamo voluto mettere sul tavolo un argomento che è sempre, sempre il centro dell'attenzione, quello del lavoro, del mercato del lavoro, del mondo del lavoro, ma che insomma vi renderete conto ogni giorno, ci rendiamo conto ogni giorno, diventa sempre più attuale proprio perché evidentemente manca tanto per evolvere e essere alla pari di altri paesi. Quante volte diciamo l'Italia, con tutte le potenzialità che ha, potrebbe essere qui, invece resta qui, fa analino di coda in tante occasioni, dobbiamo lottare, questo ovviamente in senso generale, però poi a livello sistemico ovviamente le riflessioni devono essere fatte. Allora, è vero che può essere tra virgolette una gocciolina nell'oceano, però perché non essere noi a farlo, noi a cominciare a colmare dei vuoti che ancora oggi esistono. Effettivamente il titolo Growth Mindset, sfide, opportunità di crescita nel mercato del lavoro, porta con sé comunque delle parole positive. Abbiamo voluto lasciare da parte crisi, difficoltà, l'ho detto io, ma perché è giusto associare le due cose, proprio per dire c'è un problema, bene, noi dobbiamo essere qui a dire come si potrebbe risolvere. Partiamo proprio da un argomento più generale, quello che vede le hard skills e le soft skills. che devono andare di pari passo, le competenze, quelle per cui si studia, per cui ci si forma, è anche però qualcosa che appartiene a ciascuno di noi, quello che riusciamo a tirare fuori quando magari lavoriamo e quando ci impegniamo in un certo settore. E a questo punto, Avvocato Tognozzi, parto da lei ma la stessa domanda poi la rivolgerò all'ingegner Boccolini. Oggi il mercato del lavoro è sempre più competitivo, ma forse questa non è una novità, forse la competizione sta proprio anche nella difficoltà di capire qual è il modo di emergere. Ecco, quali competenze, a suo parere, per la sua esperienza, sono realmente necessarie e che poi si possono tradurre anche in pratica? Ecco, questo è lo step successivo che vogliamo fare. Innanzitutto buonasera a tutti e mi scuso della voce perché sono molto raffreddato, però purtroppo questo è... Sì, chiaramente parlo del mio mondo, parlo del settore legale, io faccio l'avvocato penalista e quindi parlo della mia esperienza. Sicuramente il mercato del lavoro per i ragazzi che oggi entrano nel mondo forense è sicuramente molto complicato, molto più complicato di quando abbiamo iniziato noi, io ho 32 anni di professione, quindi 32 anni fa. Perché? Perché sicuramente è molto più complicato riuscire ad avere la possibilità di intraprendere un'attività professionale improprio perché le attività di spesa per mettere su uno studio, le attività di impegno fiscale sono completamente diverse da quelle che erano trent'anni fa e per quanto riguarda le competenze, l'unica possibilità per i ragazzi di entrare nel mondo del lavoro nel settore forense in materia penale è quella di specializzarsi più possibile in settori di nicchia che possano portare l'eccellenza rispetto all'interesse del cliente. Pensate che 40 anni fa l'avvocato si occupava di diritto civile, diritto del lavoro, diritto penale, diritto amministrativo. Quando 30 anni fa ho iniziato io, iniziavano le prime specializzazioni, chi faceva diritto civile, chi faceva diritto penale, chi faceva diritto del lavoro. Oggi all'interno del macromondo del diritto civile, del macromondo del diritto penale ci sono specializzazioni ancora più settorializzate per cui il cliente esige giustamente la soluzione del problema attraverso un professionista che sia specializzato in materia di reati ambientali, piuttosto che in materia di reati finanziari, piuttosto che in materia di reati squisitamente di natura contro la pubblica amministrazione. Entrare oggi nel mondo del lavoro con specializzazione delle competenze vuol dire per un ragazzo dopo aver affrontato un'università che secondo me ancora non è idonea a formare un professionista nel mondo forense così come dovrebbe essere e come è sicuramente il mondo del mercato europeo, deve affrontare un percorso di formazione successivo a quello dell'università che lo possa formare rispetto a micronicchie per dare al cliente la maggiore professionalità in quel settore. Guardi lei ha detto una cosa fondamentale e qui subentra anche il ruolo delle aziende perché purtroppo abbiamo ancora quello che dicevamo poco fa, in Italia una situazione per cui spesso a livello di educazione e formazione siamo indietro, appunto l'università, lei lo sta confermando per questo il confronto è fondamentale e i ragazzi escono che sono anche giustamente un po' così disorientati qui subentra il ruolo delle aziende e dopo vedremo anche con la seconda domanda e il secondo spunto cosa davvero si può fare. Le aziende che devono accompagnarlo in un percorso che sicuramente all'inizio non è semplicissimo ma insomma poi se un talento è un talento occorre che abbia in qualche modo una spinta in senso positivo, appunto in senso formativo. Poi ci torniamo comunque anche con lei avvocato la ringrazio per questo input importante. In genere Boccolini, stessa domanda a lei anche magari alla luce di quello che sul finale ha raccontato l'avvocato, questa transizione che dopo gli studi per quanto magari importanti, per quanto solidi, beh ci deve comunque essere. Sì sicuramente buonasera a tutti, mi riallaccio al ragionamento che ha fatto l'avvocato perché sicuramente le hard skills sono un tema molto importante che credo negli ultimi anni abbiamo messo a volte in secondo piano, concentrandoci sul fatto che la flessibilità, la dinamicità del mondo del lavoro nei colloqui ad esempio dovrebbe focalizzarsi molto sull'attenzione, sulle soft skills ovvero sulla flessibilità, sulla empatia che crea il candidato e quindi sull'ipotesi di quanto possa essere lui flessibile nell'arco della sua carriera. Relativamente alla verticalizzazione della quale parlava l'avvocato, io sono un amante delle hard skills sinceramente perché la sostanza, l'aspetto molto importante di focalizzarsi su competenze tecniche molto specifiche e affiancarle senza dubbio ad una competenza trasversale è di certo la chiave. Io ricordo da piccolo quando facevo i lavori di falegnammeria con mio nonno e c'era un utensile che aveva un lato molto ruvido e un lato molto fino, il lato fino era la lima, il lato ruvido era la raspa e entrambi i lati servivano per fare una curva giusta. Sicuramente la parte più ruvida che la possiamo interpretare come le hard skills è la sostanza, le soft skills ci aiutano con la forma. Io mi focalizzo, noi siamo un gruppo di 400 dipendenti e quando cerchiamo nuovi collaboratori un aspetto delle soft skills al di là della capacità comunicative, tutte quelle soft skills che ormai i collaboratori arrivano già formati e con corsi di formazione sulla comunicazione proprio perché sono focalizzati su quello. Ecco, io vorrei riportare al centro alcune soft skills forse un pochettino dimenticate nel tempo, la serietà, la puntualità. Ti mando una mail entro domani e poi la mail non arriva. Ma questo è molto più grave. Quella non è flessibilità, a volte si confondono le cose, esatto, i piani. Cioè l'attenzione, il rispetto, ma queste sono soft skills fondamentali secondo me che nel tempo si sono un po' perse dando tanta attenzione alla flessibilità, al poter sviluppare l'intelligenza empatica e tutte queste cose che sono assolutamente giuste. Però non ci dimentichiamo i fondamentali. Io sono un ex giocatore di calcio, cioè non facciamo le rovesciate se non sappiamo stoppare la palla. Ecco. Forse, forse, no no no, giusto, belle anche metafore che aiutano a capire. Il discorso che è, siccome lo dicevo inizialmente, credo siamo in una fase evolutiva anche del mercato del lavoro e del modo di lavorare, a volte si tende a confondere quello che giustamente definiamo bilanciamento tra la vita professionale e la vita personale e che è necessario, ma proprio per rendere di più anche sul lavoro, perché lo stress, adesso sto banalizzando, ma lo stress non fa bene a nessuno, in primis a noi come esseri umani per la salute, ma è poi in secundis per quello che dobbiamo portare al lavoro. Però a volte magari tendiamo a confondere i piani. Allora, in virtù del benessere, tendiamo a non essere puntuali, a non dedicare, magari questo in generale, credo che fosse anche un po' una provocazione, no? Perché poi, ecco, si associa a quello che diceva poco fa l'avvocato, il fatto che l'azienda e questo ruolo dell'azienda debba accompagnare anche in questo percorso il candidato ideale. E poi sulle hard skills, adesso poi passo la parola ancora all'avvocato, beh, fondamentali, perché sennò accade quello che abbiamo visto ultimamente, il fatto che ci sia la difficoltà di trovare anche persone che possano ricoprire dei ruoli, no? La difficoltà delle aziende di andare a trovare persone che possono dare un contributo. Quindi entrambe le cose, insomma, vanno come sempre bilanciate. Sta anche a voi, eh, farlo a noi, alla società, alle istituzioni, ma alle imprese. Ecco, questo è il primo, come dire, il primo punto da segnare. Allora, avvocato Tognozzi, si parla anche tanto di fuga dal lavoro, persone che lasciano il lavoro anche quando hanno un lavoro fisso, che danno le dimissioni nonostante non abbiano trovato un altro posto di lavoro, no? Allora, spesso lo fanno proprio in virtù di trovare maggiore flessibilità, però a voi chiedo come fare a trattenere i talenti. Cioè, cosa si può fare di più oggi affinché davvero i talenti possano rimanere e non andarsene, non andare addirittura all'estero, quindi portando le loro competenze in un altro paese? L'Italia ne ha un estremo bisogno. Sì, anche qui, ovviamente, prendo come parametro il mio mondo. Sì. Vi do un dato. Quest'anno sono nella commissione d'esami degli avvocati del distretto del Lazio. Rispetto all'altro anno ci sono 48% in meno dei candidati. Quindi parliamo di un dato importantissimo. Cioè, i ragazzi che escono dall'università con la laurea in giurisprudenza, rispetto a quello che è il loro entusiasmo, o comunque la volontà di affrontare il mondo del lavoro, hanno scelto per quasi la metà di non intraprendere l'attività forense. È sicuramente un responsabile anche della nostra generazione, no? Torno a quello che ho dicevo prima al dottore. Io mi ricordo, mandare una mail a una certa ora per impegno preso si chiama professionalità. I nostri maestri, quelli della mia generazione, hanno avuto maestri della generazione del 30. Ti insegnavano tre cose fondamentali. Uno, a rispettare la parola data. Essere puntuali, se si dava un orario di un appuntamento. Rispetto nei confronti del tribunale, rispetto nei confronti dei colleghi. Due, rispettare l'impegno nei confronti del cliente. Tre, non commissionare la vita professionale con la vita privata. Cioè mantenere un perimetro isolato attraverso il quale nessuno poteva entrare all'interno della vita privata per consentire la vita personale della famiglia. Adesso tutte queste regole semplici, sono regole semplicissime, sono totalmente venute meno. Perché? Perché la velocità della vita lavorativa è triplicata, cioè intuplicata sicuramente. Quindi non ci sono più quei perimetri dentro al quale nessuno si poteva permettere di entrare nella vita del professionista o comunque dell'imprenditore. I ragazzi, questa parte qui, a 23 anni, a 24 anni, appena laureati o comunque appena affacciati nel mondo dell'impresa, la soffrono perché sono ragazzi di 23 anni, cioè a un certo punto scappano da quel mondo. Non riescono a gestire quello stress non avendo qualcuno che ponga dei paletti e gli garantisca un penimetro dentro il cuore, debbono prima di tutto crescere come uomini. Quindi, quelle tre regole banali a cui ho fatto riferimento prima, probabilmente noi non siamo stati in grado di insegnarle. Dico, noi, la mia generazione, così come invece a noi l'hanno insegnato i nostri maestri, il mio maestro quando iniziò a lavorare, queste erano tre regole, poi magari se io dicevo posso uscire mezz'ora prima, perché ho una festa adesso, lui mi rispondeva sempre la stessa cosa, tu sei un professionista. L'importante è che finisci il lavoro nel termine previsto dal codice. Poi se lavori di notte o lavori di mattina perché una sera c'hai una festa, è un problema che devi gestire te. Adesso questa cosa, probabilmente, se oggi un ragazzo va da un dominus, come si chiama nel nostro mondo, gli chiede di uscire mezz'ora prima, per principio non deve uscire mezz'ora prima. Questo mi sembra di vivere il disagio di queste nuove generazioni e questo. Ma perché si ha meno fiducia nelle nuove generazioni o perché davvero le nuove generazioni non danno modo di... No, no, secondo me è un approccio... No, no, ci stanno tantissimi ragazzi bravi. Proprio diverso. Io ho visto tantissimi ragazzi, anche bravi, con tanto entusiasmo, con preparazione, che probabilmente non sono stati accompagnati. Ecco, infatti, infatti. Non vengono accompagnati nel modo migliore. Da chi ha invece il ruolo, chi istituzionale, chi di diritto naturale, chi invece l'uomo della strada, dico da tutti i punti di vista, di accompagnare un ragazzo giovane nel mondo del lavoro, che possa essere poi il stesso imprenditore, anche il dipendente pubblico. Ma certo, ma anche perché quando si avverte la gratificazione, insomma, poi credo che venga più spontaneo, no, essere propensi a... E purtroppo, con la precarietà che ormai respiriamo, e i giovani ancora di più da tempo, poi credo che la precarietà diventi un po' anche diffidenza, no, e quindi si tenga un po' di distanza tra... Invece no, perché, insomma, siamo un pacchetto unico, permettetemi questa espressione un po' terra-terra, ma, insomma, giusto per arrivare al punto. Ingegner Boccolini, anche lei chiedo, insomma, trattenere i talenti in certi momenti sembra davvero complicato. Cioè, i giovani... Alcune volte, io parlo spesso con i giovanissimi che non hanno ancora un lavoro stabile, e molti dicono, ma io, no, non lo so, adesso sto pensando di andarmene via, magari non hanno neanche tentato più di tanto, magari dopo due delusioni, che sono anche normali, perché, insomma, ci vuole un po' di gavetta, però magari l'hanno percepito come un allontanamento, no? Come quello che dicevamo poco fa. Ecco, come trattenerli? Uno degli aspetti fondamentali è individuare il collaboratore che inizia a lavorare in azienda e se è un giovane di mestiere o è un soggetto al primo impiego. Sicuramente, in entrambi i casi, la cosa fondamentale, al di là, ormai dico, del welfare, del well-being aziendale, quindi di accorciare la pausa pranzo, dare dei premi di produzione, e questo, diciamo, lo do per scontato perché quasi tutte le aziende, non voglio generalizzare, ma diciamo l'imprenditoria italiana è un'imprenditoria sana, è un'imprenditoria che è molto attenta ai collaboratori, perché sono il nostro patrimonio. raccolgo il dato dell'avvocato e ne do un altro. Parlavamo l'altro giorno con un mio collaboratore con un ingegnere di Bologna che ci diceva che quando ha studiato ingegneria, lui, non nel 1920, 25 anni fa, erano 300, quest'anno si sono iscritti in 40 a Bologna. Noi siamo di Assisi, abbiamo la sede ad Assisi, ma abbiamo stabilimenti in tutta Italia, l'Università di Perugia, da 120 studenti, se ne ritrova 30, e quindi ovviamente oggi abbiamo una mancanza proprio di persone, di numeri. Esatto. È una questione di numeri. Sì, parlavamo prima della mancanza di reperibilità, di persone che ovviamente possano accedere. E per questo è indispensabile e il ruolo dell'impresa è ancora più arduo. Noi dobbiamo costantemente fare dei colloqui di clima per capire se il collaboratore a 3, 6, 12 e 24 mesi è allineato con le sue aspettative. E questo è un aspetto fondamentale per anticipare i numeri che diceva lei, delle dimissioni che sono incredibili. Sembra, quando guardiamo i numeri delle dimissioni, quello che succedeva negli Stati Uniti 5 o 6 anni fa si è amplificato incredibilmente con il Covid anche in Italia e sicuramente un altro aspetto fondamentale è quello di costruire dei dipendenti che possano diventare storici. Perché la spina dorsale delle aziende è fatta da una cultura aziendale che deve essere distribuita nel tempo e i collaboratori per diventare storici devono noi diciamo in azienda mettersi la maglietta Manini e per mettersi la maglietta Manini bisogna anche però in questi colloqui, in queste condivisioni, in questo percorso di formazione che anche viene fatto dai senior anche capire se i giovani o i giovani di azienda perché i giovani non sono un'entità ci sono bravissimi, gli ingegneri che escono oggi sono molto più bravi di quando avevo studiato io vent'anni fa, molto più bravi. però devono allinearsi o condividere i valori dell'azienda perché se non si condividono i valori dell'azienda posso aumentargli lo stipendio, posso dargli un benefit, posso farlo uscire alle 5 invece che alle 6 o alle 4 invece che alle 5 o aggiungere un ping pong nella sala relax ma non hai consolidato un rapporto ma è sempre un soggetto che sta col curriculum pronto sul tasto invio e noi invece dobbiamo costruire una cultura aziendale che gli permetta di stare bene e di stare bene nel tempo e una chiave secondo me è quella di rinnovarsi nel tempo perché è nella natura dell'uomo che dopo 3-4 anni io guardo le carriere dei manager quelli più importanti hanno fatto 5 anni in McKinsey, 5 anni in Shell 5 anni in... sì che si abbia voglia anche di cambiare e questi hanno tutta un'esperienza ecco io sono 20 anni che sono in manini prefabbricati e sono orgoglioso di questo perché credo che una delle cose importanti sia cercare di cambiare ritrovare stimoli e modificare la propria azienda contribuendo internamente non prendendo soggetti esterni questa è una sfida guardate vi lascio con una provocazione di una notizia che ho letto oggi ho confrontato anche in una delle mie trasmissioni visto che parliamo di risorse umane e visto che si parla sempre più spesso di innovazione di intelligenza artificiale addirittura tante società importanti americane hanno cominciato a fare i colloqui attraverso l'intelligenza artificiale voi lo saprete meglio di me perché vuole essere una provocazione proprio perché noi stiamo invece ragionando su come aumentare la condivisione umana e questo non toglie poi il fatto che le nuove tecnologie e l'intelligenza artificiale possano aggiungere qualcosa ma spesso facciamo il passo più lungo della gamba diciamo che bello l'intelligenza artificiale ci farà fare questo, questo, questo però ci accorgiamo attraverso anche i numeri che voi avete portato questa sera che c'è una carenza di base e che sicuramente non può risolvere l'intelligenza artificiale quindi voi siete per colloqui umani non con l'intelligenza artificiale giusto me lo conferma perché ecco io assolutamente sì perfetto no mi era sembrato di capire proprio oggi insomma ho approfondito questa notizia e magari un domani lo faremo anche noi ma certo con delle spalle un po' più solide su altri aspetti aspetti ottimo io ringrazio l'avvocato Gianluca Tognozzi socio fondatore chiedo un applauso e managing partner studio legale Tognozzi associati e ringrazio l'ingegner Manuel Boccolini CEO Manini prefabbricati davvero grazie per grazie non voglio dire insegnamento perché non lo è ma grazie per questo aver messo sul tavolo insomma su questo palco la vostra esperienza grazie mille grazie 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 e buona serata a dopo